L'evento di apprendimento, applicazione ed esperienza pratica utilizza l'approccio ormai ampiamente diffuso e riconosciuto del learning by doing o imparare facendo. Stiamo parlando naturalmente di un approccio attivo. Vediamo insieme come funziona. Durante l'esperienza pratica gli studenti si cimentano di fatto nel tentare qualcosa di nuovo, provano a svolgere un'azione e un'attività che probabilmente non hanno mai fatto prima. Ecco quindi che si trovano di fronte a un feedback, cioè l'esito dell'azione svolta. Ed è proprio tramite questo ciclo di esperienza e feedback che avviene l'apprendimento. Di fatto possiamo dire che la conoscenza viene creata trasformando l'esperienza. Ma perché ci stiamo concentrando tanto su questo approccio? Sicuramente perché è un approccio attivo che coinvolge quindi lo studente e gli dà la possibilità di mettere in campo tutte le competenze che possiede. Lo studente coinvolto in un'esperienza pratica non può contare solo sulle competenze teoriche apprese a lezione, ma deve mettere in campo anche tutta una serie di abilità dette soft, come per esempio capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di gestire i conflitti. Inoltre potrebbe applicare all'esperienza pratica anche una serie di competenze che derivano da altre esperienze o che sono state mutuate da altre materie di studio. E questo è fondamentale al giorno d'oggi perché aiuta a sviluppare flessibilità e creatività, abilità necessarie per stare al passo con i cambiamenti velocissimi del mondo che ci circonda. Pensando ad attività di applicazione esperienza pratica, quasi sicuramente la maggior parte di noi rievoca l'immagine di qualche esperimento svolto nel laboratorio scientifico della facoltà o della scuola. In realtà però esistono molte altre opzioni. Se consideriamo le esperienze svolte in contesto didattico, come laboratorio o l'aula, possiamo contare anche su attività di gamification o creazione di prototipo con l'ausilio di strumenti fisici o digitali, o ancora l'utilizzo dei laboratori virtuali e laboratori con controllo remoto. In particolare questi nuovi laboratori giocano un ruolo sempre più importante. Infatti i laboratori a controllo remoto consentono di svolgere esperimenti veri e propri ma senza la necessità di essere in presenza. E questo è molto utile per dare a tutti gli studenti la possibilità di accedere alla sperimentazione. I laboratori virtuali invece consentono di simulare situazioni di contesti reali difficilmente realizzabili nella pratica didattica. Per esempio confrontarsi con le attività di manutenzione di un impianto petrolifero. Alle esperienze didattiche poi possiamo anche affiancare una serie di esperienze esterne estremamente efficaci. Parlo delle visite sul campo, di brevi stage o praticantati che consentono agli studenti di mettere in pratica abilità, tecniche o processi che non possono essere eseguiti altrove. All'inizio di questa lezione abbiamo citato il feedback e abbiamo detto che il riscontro che otteniamo dall'esperienza è fondamentale per l'apprendimento. Questo perché per trasformare l'esperienza in conoscenza lo studente deve mettere in atto un processo di riflessione e metacognizione. Vediamo insieme come il docente può facilitare questo processo restituendo un feedback al studente. Come prima regola ricordiamoci che il feedback efficace è quello tempestivo, poi ricordiamoci che deve essere un vero e proprio strumento che il docente offre agli studenti. Quindi deve garantire allo studente di comprendere senza difficoltà se ha agito in maniera corretta o meno. Deve poi offrirgli l'opportunità di riflettere sui progressi e sulle difficoltà in modo da capire come affrontare al meglio il percorso di apprendimento. Un altro suggerimento, il feedback è prezioso ma in alcune situazioni come in classi molto numerose può essere davvero sfidante per il docente raggiungere tutti gli studenti. Non dimentichiamoci allora che il feedback in un contesto di apprendimento esperienziale può essere fornito anche dagli studenti stessi attraverso processi di peer review. Certo in questo caso il docente dovrà condividere con la classe una serie di linee guida su come e quando fornire il feedback e programmare una serie di momenti dedicati a questa specifica attività.